ciao a tutti oggi con questo video tutorial andremo a vedere un'altra piastrellina della nostra serie di piastrelle che stiamo realizzando per la coperta shabby o per quello che voi ci vorrete poi fare questa qui è una piastrellina traforata croce e archetti si chiama abbiamo battezzarlo battezzata croce archetti ed è una piastrella molto molto facile da realizzare è molto utile perché questa la potete utilizzare ingrandendo a quindi andando avanti sempre nella lavorazione e poi capirete che è veramente semplicissima potrete ingrandirla fino a farla diventare addirittura un centro tavola una copertina insomma quello che più vi piacerà bene andiamo subito a vedere come si realizza la nostra piastrellina croce e archetti allora iniziamo la nostra piastrellina andando a realizzare un anello magico che chiuderemo con 3 catenelle quindi una due e tre queste tre catenelle vanno a sostituire la prima maglia alta adesso ne facciamo un'altra 2 catenelle e procediamo per tutto il giro quindi per tutto l'anello magico a realizzare due maglie altre due catenelle per un totale di otto volte quindi una coppia l'abbiamo già fatta facciamo la seconda coppia di maglie alte una e due catenelle lo facciamo per altre sei volte andiamo a chiudere prima stringiamo l'anello magico prendiamo a chiudere nella prima delle tre catenelle iniziali con una maglia bassissima quindi l'ultima delle tre catenelle iniziali adesso andiamo a lavorare nuovamente 3 catenelle 2 e 3 catenelle facciamo una maglia alta subito sotto 2 catenelle e nuovamente una maglia alta subito sotto fra una maglia alta e l'altra facciamo un'altra maglia alta e un ancora quindi un aumento ma gli altri tra le due prime maglie alte adesso lavoriamo una due tre e quattro catenelle saltiamo 3 maglie alte quindi una due e tre maglie alte in mezzo fra la terza e la quarta maglia alta andiamo a realizzare nuovamente due maglie alte una due maglie alte nello spazio che c'è tra la terza e la quarta maglia alta facciamo due catenelle e sempre nello stesso punto andiamo a realizzare altre due maglie alte quindi una e due maglie alte sempre nell'intersezione tra una maglia alta e l'altra adesso realizziamo una due tre quattro catenelle saltiamo nuovamente tre cat e tre maglie alte una due tre e nella quarta cioè tra la terza e la quarta ci reinseriamo e facciamo la stessa cosa quindi due maglie alte 12 2 catenelle e altre due maglie alte sempre nello stesso punto una e 24 catenelle saltiamo nuovamente tre maglie di base una due tre e intersezione entriamo due maglie alte 1 2 maglie alte dove catenelle e altre due maglie alte una 4 catenelle e andiamo ad agganciarci alle prime tre catenelle di base nel giro precedente e andiamo a chiudere con una maglia bassissima giro successivo 3 catenelle 1 2 3 catenelle nell'archetto maglia alta nell'archetto di due maglie che abbiamo sotto due catenelle e due magliette sempre nello stesso archetto di una e due magliette 4 catenelle 2 3 4 catenelle e con una maglia bassa andiamo a chiuderci nell'archetto grande sottostante altre 4 catenelle 1 2 3 e 4 siamo nuovamente all'archettino e nell'archettino non mi fate facciamo due maglie alte 1 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 1 ora siamo di nuovo all'archetto grande siamo 4 catenelle fermate con una maglia bassa altre 4 catenelle siamo nuovamente all'archettino di due maglie nel quale faremo due maglie alte separate da due catenelle e altre due maglie alte e continuiamo e procediamo così fino al termine del giro andiamo a chiudere con 4 catenelle chiuse nell'ultima delle tre maglie alte delle 3 catenelle che abbiamo fatto inizio giro con una maglia bassissima nuovamente 3 catenelle e all'interno dell'archetto nuovamente una maglia alta 2 catenelle e altre due maglie alte 1 e 2 maglie alte 4 catenelle 2 3 4 catenelle che andremo a chiudere con una maglia bassa nel primo archetto altre 4 catenelle 2 3 4 catenelle maglia bassa nell'archetto successivo 4 catenelle e nuovamente siamo all'archetto di due mani dove faremo due maglie alte 1 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e procediamo con 4 catenelle chiuse nel primo archetto con una maglia bassa altre 4 catenelle chiuse nel secondo archetto con un'altra maglia bassa 4 catenelle e ci ritroviamo nuovamente all'archetto di due maglie nel quale faremo due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte e procediamo così fino alla fine del giro chiudiamo con 4 catenelle che andremo a chiudere nella nell'ultima delle 3 catenelle di inizio giro nuovamente 3 catenelle e nuovamente all'interno dell'archetto di due maglie una maglia alta 2 catenelle e altre due maglie alte 1 e 2 4 catenelle chiuse nel primo archetto con una maglia bassa altre 4 catenelle chiude sempre con una maglia bassa nel secondo archetto altre 4 catenelle chiuse nel terzo archetto sempre con la maglia bassa 4 catenelle e siamo nuovamente all'archettino di due maglie quindi entriamo 2 maglie alte 1 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte 1 2 1 2 3 4 catenelle maglia bassa nel primo archetto 1 2 3 4 catenelle maglia bassa successivo 1 2 3 4 catenelle archetto di 2 maglie alte 2 maglie alte 1 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte negli angolini e procediamo così per tutto il giro quindi 4 catenelle chiuse nei tre archetti 4 4 4 con una maglia bassa 4 catenelle 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte negli angolini e procediamo così per tutto il giro anche in questo caso andremo a chiudere con 4 catenelle 1 2 3 4 catenelle alla prima ultima delle prime 3 catenelle iniziali 3 catenelle e andiamo a proseguire nello stesso modo fino ad avere la dimensione del nostro della nostra piastrella come ci piace e io sto facendo piastrelle 10 per 10 e proseguirò con le mie quella con la mia misura ovviamente in ognuna delle all'inizio faremo 3 catenelle e nell'archetto lavoreremo una maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte perché la prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle iniziali poi faremo 4 catenelle chiuse negli archetti successivi con una maglia bassa quindi quattro catenelle e le chiudiamo qui quattro li chiudiamo qui quattro li chiudiamo qui e quattro li chiudiamo qui nell'archetto laterale nell'archetto piccolino quindi quello dell'angolo andremo a fare sempre due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e procediamo in giri concentrici aumentando ovviamente sempre di 4 catenelle ogni giro perché vedete che aumenta ogni volta aumentano gli archetti fino a che non arriveremo alla grandezza che ci occorre possiamo fare anche direttamente un centrino un qualsiasi cosa con questa con questo tipo di lavorazione questa piattolina molto carina e ci si può fare tranquillamente anche un bellissimo centro tavola quindi continuiamo con le nostre 2 3 4 catenelle che andremo a fermare in ognuno dei due tre quattro e procediamo così a oltranza finché non abbiamo realizzato la nostra questa lega della misura che ci occorre una volta terminata la vostra piastrellina quando avrete raggiunto la dimensione che vi occorrerà andrete a tagliare e fermare il figlio dopodiché prendiamo la cosa lana andiamo ad inserire il filo e lo facciamo sparire all'interno dei punti stessi di lavorazione entriamo all'interno di un po di punti in questo modo e facciamo sparire il filo 1 e procediamo anche con quello dell'anello magico ed eccola qui come appare una volta terminata la vostra piastrellina croce archetti molto carina molto simpatica e vi ripeto questa potete utilizzare questo questa piastrellina per realizzare anche un bellissimo centratavola perché voi continuate ad allargarla dall'argarla dall'argarla finché non avete un bel centro tavolo un centrino o quello che vi piace o la piastrellina nel caso voi vogliate appunto realizzare una semplice piastrellina come in questo caso ho fatto io bene a questo punto il brevissimo tutorial è terminato abbiamo aggiunto un'altra piastrella alla nostra collezione di piastrelle con le quali poi faremo la nostra bellissima coperta shabby io come al solito vi ringrazio per avermi seguito vi aspetto tutto su facebook sul gruppo gli amici dell'angolo di chris vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial